Il Volley Arno ufficializzerà l'allenatore per il nuovo anno di B2 la prossima settimana, attendendo la ratifica dell'intero consiglio di amministrazione. Ma il nome di colui, o colei in questo caso, che sostituirà in panchina Marco Lapi, destinato a Figline al Valdarno Volley, appare probabilmente quello di Fiorella Di Leone, giovanissima coach, reduce dall'esperienza allo star volley di Sinalunga. Una realtà quella chianina che peraltro pare destinata a non ripartire per la nuova stagione e quindi non è escluso che il medesimo percorso tecnico possa essere percorso, oltre che dall'allenatrice, anche da qualche giocatrice che quest'anno è stata avversaria delle Aquilotte Rosso-Blu. Esistono peraltro altre possibili piste, ma quella che porta alla Di Leone appare la più praticabile, oltre che quella con le maggiori probabilità di conclusione positiva della trattativa. La decisione è già dalla prossima settimana dunque, ma intanto una consapevolezza, quella che questo salto di categoria si presenta come il più grande ostacolo per il nuovo anno, sia logisticamente che per spese globali e soprattutto valori tecnici delle avversarie.